Un progetto d'arte contemporanea diffusa nella città di Palermo attraverso un programma di interventi urbani che riguardano alcuni simboli della città. Il progetto d'arte 23 maggio 2021, Spazi Capaci, Comunità Capaci, curato da Alessandro De Lisi e prodotto dalla Fondazione Falcone e Dalmiur, sarà inaugurato il prossimo 23 maggio in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. A pochi metri dall'aula bunker del carcere Ucciardone, teatro del Maxi Processo, Andrea Buglisi da alcuni giorni sta realizzando la Porta dei Giganti. Due murales, raffiguranti uno, Giovanni Falcone, sulla facciata di un edificio di via Duca della Verdura, l'altro Paolo Borsellino sulla parete di uno stabile di via San Polo. Davanti all'albero Falcone, già dichiarato bene di interesse culturali, verrà invece collocata l'attesa una scultura dell'artista Peter Demetz che raffigura una giovane donna che rappresenta l'attesa di una città per la giustizia. A Brancaccio, infine, nella piazza Anita Garibaldi, dove si trova la Casa Museo di Don Pino Puglisi, l'artista Igor Scalisi Palminteri realizzerà Roveto Ardente, un murales che ritrae il sacerdote ucciso dalla mafia, oggi beato come il fiammifero che spegnendosi ha piccato il fuoco eterno della vampa del coraggio.